guanti nomex da volo verdi verde sage questa parte superiore nomex questo tessuto verde e la parte inferiore è pelle pelle di colore grigio questo colore viene chiamato sage salvia in se possiamo vedere all'interno la marca made in pakistan king arms questo materiale è nomex dupont ottimo materiale il guanto si indossa molto facilmente morbido da indossare il tessuto anche elasticizzato nel polsino per chiuderlo sul polso la pelle risulta morbida trattamento che si può dare lucido da scarpe neutro per ammorbidirla ulteriormente un guanto che ha una vestibilità eccellente molto sensibile impiegato per tanti usi si indossa bene e le cuciture sono ottimamente ben rifinite come si può vedere consente un'ottima vestibilità anche abbastanza abbondante abbondante abbondante